Il padromo di Vinovo, mercoledì 5 settembre, prova di qualifica per Poletri di due anni con l'1 Ruppolina di Gabriele Gendarmini, allenata da Luno Gendarmini e guidata da Michele Aracca, con il 2 Ralf Malbo e Chio della scuderia Torino Nord, allenato da Fabio Menegatti e guidato da Santo Mollo con il 3 Richelieu Grip della scuderia Aldo e Carlo Borsani, allenato e guidato da Marino Lovera, subito all'avanguardia il numero 2 Ralf Malph Chio, nato il 29 aprile 2010 da Uranometro e Edizione Agei, questo è il primo prodotto, poi generato Spencer Chio da Galimede e Trezeghe Chio da Tassauti, il primo prodotto dunque di Edizione Agei, che è al comando e che completa il quarto iniziale in E36, in seconda posizione Richelieu Grip, il soggetto che nasce da Baren e Fov Grip, quindi se andiamo a guardare il fratello di Martina Grip, Nelson Grip, Olympia Grip, Princess Grip, poi da Andover Hall Fov Grip ha già prodotto Sunrise Grip, quindi il soggetto importante il Sauro di Aldo e Carlo Borsani, che è in seconda posizione, il quarto iniziale intanto si era chiuso in E36, il secondo partiale in E33, 1, 1, 0, 3, 7, i primi 800 metri nella media di 1, 19, 6, in terza posizione rimane Ruffolina, che aveva già tentato la prova di qualifica, che al momento rimane più indietro chilometro che va via in 1, 18, 8 con Ralbo Malva Chiu che continua avanti a Richelieu Grip in terza posizione, Ruffolina e così lungo l'arco della piecata conclusiva, la terza frazione molto veloce in 29, 3, 1, 33 netti in 1, 2, la media di 1, 17, 5 con Ralbo Malva Chiu avanti a Richelieu Grip e in quest'ordine i concorrenti vanno l'ingresso in addirittura d'arrivo, all'avanguardia sempre Ralf Malva Chiu da Auronometro ed edizione EJ per i colori della scuderia Torino Nord, il training di Filippo Menegatti e la guida di Santo Mollo deve adeguarsi in seconda posizione, il fratello di Martina Griff e Nelson Griff e di Princess Griff in terza finisce Ruffolina, praticamente partiti arrivati, quarto conclusivo in 34, 2, 0, 3, 4 il tempo totale, media al chilometro 1, 17, 1, tutti e tre i puledri dunque qualificati per la carriera agulistica. Grazie. Grazie.